ciao amici oggi vi voglio parlare di un arrivo dell'azienda freddi questa bellissima iniziativa non so se vi ricordate a inizio mese c'era la possibilità di richiedere una t-shirt in omaggio avevo anche pubblicato sulla mia pagina instagram e facebook ieri mi è arrivata questa bellissima maglia di colore nero con questa stampa we are the same siamo tutti uguali con il mondo proprio per ricordarci di questo brutto periodo che stiamo attraversando coronavirus e infatti vicino al cartellino mi ha colpito proprio questa questa frase cosa stiamo imparando da questa emergenza stiamo imparando che per raggiungere un risultato c'è bisogno del contributo di tutti che per aiutare chi è in difficoltà ogni persona può essere allo stesso modo un eroe che per migliorare il mondo dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzione che per difendere i valori più importanti ciascuno di noi deve dare lo stesso fondamentale contributo una bellissima maglia che presto vi mostrerò indossata ringrazio l'azienda freddi a presto